Signori buongiorno e benvenuti sul canale del MasterKai, io sono il MasterKai e il vostro ospite su questo canale. Due settimane fa, o la settimana scorsa se non sono riuscito a montare in tempo il video di Luca, in realtà questo video è però registrato, comunque l'ultimo video abbiamo parlato della narrazione emergente e di come sia un aspetto fondamentale per poi la narrazione vera e propria durante un gioco di ruolo. Esiste però un aspetto della narrazione emergente in realtà molto frequente ma spesso ignorato dai Master o considerato come un errore. Se la narrazione emergente per quanto dia dei risultati imprevedibile e prevedibile nella sua manifestazione, esistono delle volte in cui da elementi che non era previsto facessero sorgere la narrazione, emerga naturalmente nella narrazione. Sì lo so, sembra complesso, abbiamo un intero video per approfondirlo. Prima di cominciare però devo farvi una domanda. Voi vi ricordate di Gianni? Come stavo dicendo, la narrazione emergente dà risultati imprevedibili, ma la sua manifestazione è prevedibile all'interno della struttura del racconto. Quando il Master mette tre mostri all'interno di una stanza non può prevedere come si svolgerà nel dettaglio il combattimento, non può neanche essere sicuro di quale sarà l'esito di quel combattimento. Quella scena potrebbe diventare il racconto dell'epica vittoria dei personaggi come potrebbe diventare il racconto della loro rovinosa sconfitta. Quello però che è prevedibile è che succederà qualcosa in quella scena che molto probabilmente sarà legato al combattimento. Un Master, anche in base alla propria esperienza, comunque potrebbe già avere in mente tutta una serie di possibili esiti per la scena e come riprendere il filo della narrazione in base a quale di questi esiti si sia verificato. Il Master ha ovviamente inserito una scena di combattimento perché voleva che da quella scena emergesse una narrazione di combattimento. Esistono però dei casi, e neanche così infrequenti, in cui l'attenzione dei giocatori non viene presa da ciò che il Master aveva previsto fosse il focus della narrazione, ma viene attirata da elementi che non centravano con la linea narrativa prevista e che probabilmente il Master non aveva neanche concepito come elementi che potessero sostenere una narrazione. Sempre nella scena del combattimento contro i tre mostri nella stanza, il Master introducendo la scena ha descritto la stanza dicendo che c'è una statua lungo una parete. Ora, i giocatori dopo aver sconfitto i mostri decidono che quella statua per qualche motivo è importante all'interno del racconto e cominciano a chiedere al Master della statua, fare prove di abilità sulla statua, cercare trappoe nella statua o comunque rendono esplicita la loro intenzione di rendere la statua un elemento focale della narrazione per quella scena. Una situazione del genere prima o poi capita a tutti i Master e può capitare anche ai giocatori che un giocatore abbia descritto un aspetto minore del suo personaggio a cui lui non ha dato particolarmente peso e che il Master invece decida di focalizzarsi proprio su questo. In realtà non serve neanche giocare di ruolo perché succeda. Molti di voi non se ne saranno resi conto ma per tutti quelli che seguono il mio canale da qualche anno sono stati coinvolti proprio in uno di questi casi di narrazione involontaria. E qui ritorna la domanda iniziale. Vi ricordate di Gianni? All'inizio della seconda stagione del canale feci un video su quali sono le materie scolastiche che possono tornare utili nella propria carriera come Dungeon Master. Ora ovviamente io non avendo potuto fare tutte le scuole possibili ho chiesto su vari gruppi, forum di giocatori di ruolo chi avesse fatto quali studi e quale cose di questi studi avesse poi potuto riutilizzare come Dungeon Master durante la sua attività. Una delle persone che rispose e cui commento fu poi scelto per essere pubblicato fu proprio Gianni. Quando il video fu pubblicato lui commentò che il suo era il commento più intelligente, si fecero un paio di battute e la cosa si è chiusa lì. Più avanti un mio video fu pubblicato su un gruppo Facebook e nei commenti sotto quel video ritornò Gianni che condivise il video, quello delle materie scolastiche, continuando a dire che sì sì, bello l'altro video, ma quel video era il migliore perché appareva lui e il suo commento era il più intelligente di tutti. Incidentalmente quel gruppo Facebook era un gruppo Facebook che frequentavo anch'io, quindi sotto io gli risposi che se era proprio così contento di apparire nei video, l'avrei fatto apparire anche in altri. Anche lì serie di battute e io ho presi una foto dal suo profilo Facebook e la usai in un'animazione che stavo facendo in un video in quel momento. Dato che inserire un'animazione in un video è qualcosa che richiede veramente molto tempo da parte mia, normalmente per tagliare sulla parte di preparazione, quando realizzo un qualsiasi asset poi lo salvo in una cartella in modo che se dovesse tornarmi utile ce l'ho già fatto e non devo ripartire da zero crearlo. L'immagine di Gianni fu quindi salvata all'interno di una cartella insieme a tutti gli altri png che avete visto scorrere nelle animazioni qui sul canale e una volta che ce l'avevo lì ogni volta che mi capitava in un video di aver bisogno di un png generico io prendevo quelle immagini e la utilizzavo, soprattutto perché la cosa faceva ridere me e nel caso il video veniva condiviso di nuovo Gianni sotto andava a fare battute su quanto lui fosse importante per la realizzazione dei video. L'ultimo video in cui è apparso fu quello dello show don't tell in cui per fare un esempio di cosa che è meglio che i pg vedano personalmente più che gli venga descritta dal master parlai di un omicidio a cui i personaggi involontariamente assistevano e venivano coinvolti da lì nella trama. La vittima dell'omicidio dato che non mi serviva un png specifico ovviamente fu la faccia di Gianni. Da quel video fino in realtà a questo Gianni poi non è più riapparso. Il motivo è che semplicemente ho cominciato a utilizzare relativamente meno animazioni perché richiedevano veramente troppo tempo e io ho passato un periodo in cui tempo ne avevo poco e nelle animazioni che ho inserito non mi era mai tornato utile avere un png generico e quindi non sono mai ritornato alla cartella dei png generici. Io personalmente non ho mai dato peso alla cosa fino a quando quest'estate parlando con Gianni non mi ha chiesto se per caso io fossi arrabbiato con lui e per quale motivo io avessi deciso di far morire il personaggio per non presentarlo più nella continuity del canale. Wait what? A quanto pare ho poi scoperto che lui e in realtà lui e anche altri di voi iscritti e di membri della community erano convinti che tutte le apparizioni di Gianni nei video fossero per qualche motivo tra di loro in continuity ci fosse effettivamente una linea narrativa che riguardava la faccia di Gianni e che si interrompesse con la morte del suo personaggio. Non credo possa esistere un esempio di narrazione involontaria migliore di questo. Dal mio punto di vista, dal punto di vista del master diciamo, non c'era neanche alcuna volontà di creare un qualche tipo di narrazione, però da parte del pubblico questa narrazione evidentemente esisteva e aveva anche una sua logica interna, per cui in molti si chiedevano perché io avessi deciso di interrompere quella storia uccidendo il personaggio. Dal mio punto di vista quella storia non esisteva neanche e in realtà se avessi fatto un video in cui mi serviva un png generico probabilmente avrei ripreso tranquillamente a utilizzare quella faccia. Ovviamente nel mio caso ci è voluto più di un anno perché scoprissi che una parte di voi era effettivamente interessata alla cosa. C'è da dire però che YouTube non è un mezzo fortemente interattivo. Io ho scoperto che c'era gente che pensava che la morte di Gianni fosse un evento importante solo per caso parlando poi su un forum. Fosse però successo al tavolo con un gruppo di giocatori, molto probabilmente me ne sarei accorto, non dico quasi immediatamente ma forse qualche sessione dopo, semplicemente sentendo i giocatori che commentavano tra di loro o anche potendo ricevere domande istantanee da parte loro. Nel caso vi capiti durante una partita, in realtà come master avete solo due strade possibili da percorrere. O interrompere la narrazione ed eliminare quell'evento, cioè fermare il gioco, dire ai giocatori no guardate quella statua è solo una statua, non c'entra niente, non perdete tempo, l'ho messa lì solo perché non mi piaceva l'idea di avere un combattimento in una stanza vuota. Questa probabilmente è la soluzione più facile e quella più veloce, però è brutta anche perché va a segare le gambe a un'iniziativa dei giocatori e non è mai bello quando uno propone un'idea e dall'altra parte gli viene detto semplicemente no. L'altra che è la cosa migliore da fare è quella di prendere l'idea dei giocatori e incorporarla nel racconto, non necessariamente deve diventare una linea narrativa principale, potrebbe anche diventarlo, però anche solo aggiungere qualche elemento alla statua, non lo so dire che quella è la statua del boss finale del dungeon e così magari gli avventurieri possono già vedere come è equipaggiato perché la statua è scolpita con la sua armatura, qualcosa del genere, accontenta gli avventurieri, aggiunge un elemento che aggiunge verosimiglianza al mondo. In realtà però di tutto questo abbiamo parlato nel video della cosa più interessante, ve lo lascio linkato qua in alto, sì qua in alto nel caso abbiate andarlo a recuperare. Tenete sempre però a mente, e questo è il concetto fondamentale che voglio che passi, che casi come questo non sono situazioni eccezionali, errori da parte del master o dei giocatori nel costruire la linea logica o comunque un bug intrinseco del gioco di ruolo. Questo è un aspetto fondamentale che voi come master vi troverete costantemente a gestire. Pensate all'esempio di Gianni, è capitata una cosa del genere anche in quello che effettivamente non è un gioco di ruolo. Io qui non sto raccontando una storia, io qui sto fornendo spiegazioni, non c'è una linea narrativa che collega i miei video, però nonostante manchi del tutto una linea narrativa, comunque qualcuno è riuscito a trovare una serie di nessi logici a creare una linea narrativa dal nulla che poi è diventata per lui parte della continuity. Se questo può capitare in una serie di video, figuratevi quello che succede quando avete realmente delle persone davanti con realmente una storia davanti. Diciamo che adesso la cosa sta a voi, al di là del ricordatemene sempre mente masterate, fatemi anche sapere quali sono le volte che a voi è successo di dover incorporare elementi di narrazione involontaria all'interno del vostro racconto o che abbiate preso elementi dei vostri giocatori per trasformarli in elementi di narrazione involontaria. Come avete gestito la situazione? Ovviamente non c'è bisogno di dirlo, io da Bravo Master sfrutterò la cosa e quindi probabilmente già settimana prossima o tra due settimane a seconda di quando è uscito il video di Luca, vedrete come va avanti la storia di Gianni. Nel frattempo, come sempre, se il video vi è piaciuto mettete un like e condividetelo che aiuta a crescere il canale, schiacciate il tasto della campanella se volete ricevere notifiche dei prossimi video. Io sono il Master Kai, ci vediamo nel prossimo video.